Cantava così Fred Bongusto parole le sue tristemente attuali in riferimento alla realtà della città che gli ha dato i Natali. La statua che lo raffigura sulla scalinata di fianco alla chiesa di San Leonardo realizzata dalla fonderia a Marinelli nel centro storico che lo ha visto crescere ancora una volta danneggiata. Qualche tempo fa furono strappate le corde della chitarra, adesso il manico nella parte degli accordi spezzato di notte. Un atto vandalico che non è solo uno sfregio alla memoria di Fred, un grande artista campobassano, perché quando viene danneggiato un monumento è una sconfitta di civiltà. È un pessimo atto vandalico, non ne sapevamo nulla, ci siamo rimasti male, ne stiamo parlando ora, non è assolutamente normale come cosa. Se vengono poste delle sculture, almeno salvaguardare, non dico tutto il viale, però almeno queste opere che vengono esposte al pubblico e che quindi devono essere protette. Sono gesti inqualificabili che denotano la scarsa cultura che regna in Campobasso, specialmente nei giovani, perché probabilmente vanno girando di notte e non sapendo che fare danno a danneggiare quello che trovano avanti. C'è sconforto, indignazione e tanta tristezza per l'ennesimo atto di inciviltà in una città a Campobasso che, anche sotto aspetti più preoccupanti, non è più quella di un tempo. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Questa è la società odierna. A Fred Boncurti, prima prima le corde, adesso il manico, fra poco tu scendono e tu portano la casa. Telecamera in genità, c'è solo una luce. C'è anche chi ormai non si meraviglia più. Sarebbe stato meglio non metterla proprio la Stato. Era cosa prevedibilissima. Ma in che mondo viviamo? Perché si meraviglia? Carabinieri e Polizia Municipale sono stati sul posto e il Sindaco Gravina stigmatizza l'accaduto. Si rincorrono sempre le stesse domande. Le telecamere funzionano, ma bisogna anche spiegare alle persone che non tutti noi siamo, tra virgolette, individuabili, soprattutto coloro che sono schedati, forse sì. Quindi le immagini possono essere utilizzate sulla base di una denuncia, quindi bisognerebbe anche capire il momento. Per l'ennesima volta abbiamo già contattato l'azienda che ci farà la manutenzione e la riparazione, perché non dobbiamo mollare. Dobbiamo cercare sempre di tenere tutto perfettamente in ordine, proprio perché deve vincere la cura rispetto all'incuria o perché no a manifestazioni di questo tipo.